Sono arrivati a fine novembre 48 nuovi mezzi che andranno a rinnovare la flotta cogesa. I camion fanno parte della gara furrenta, giudicata con delibera numero 154 del 6 agosto scorso, dopo una procedura di gara europea. L'appalto è stato assegnato ad un raggruppamento temporaneo di imprese, per un importo a base rasta di 7.308.000 euro per sei anni, aggiudicato a 6.900.000 euro. I primi 20 mezzi saranno consegnati entro il 30 novembre e gli altri 28 entro il 31 dicembre, e altri quattro invece saranno dati in disponibilità come offerta migliorativa della gara. In totale sono 59 mezzi a nolleggio nuovi di fabbrica che cogesa impiegherà sul territorio gestito, a cui ne vanno aggiunti 56 di proprietà che percorrono 2.500 km2 distribuiti sui 65 comuni soci delle province dell'Aquila e Pescara, molti dei quali in montagna per un bacino di 70.000 utenti. Il furrente ha concesso notevole risparmio di costi, spiega l'amministratore unico di cogesa, Vincenzo Margiotta, pari a circa 80.000 euro l'anno e quasi 500.000 euro nei sei anni dell'appalto. Intanto, con delibera numero 227 del 22 novembre scorso, è stata disposta la revoca della sospensione delle procedure relative agli avvisi di selezione. Le procedure concorsuali irranno stare sospese in seguito alle indagini della magistratura ancora in corso. Ora l'esercito di candidati potrà accedere alle singole prove. Dove sono 14 profili riattivati per reperire operatori ecologici, ma anche autisti, ingegneri, figure tecniche e amministrative.